I fuochi d'artificio alle 3.18 di notte. Tutti cariopsi, come state, come state, spero molto molto bene. Allora, oggi, oggi sono qui, 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 solo per voi, per registrare questo nuovo video, ovviamente. Cosa faremo in questo video? Molto tappi? Molto, molto tappi e puoi rifare delle uniche pericine vicino al microfono. Scoprirò l'editing in fase di montaggio di video. Se sarà venuto carino questo video, perciò, prima di cominciare, indossate un paio di guglie auricolari. Stendetevi sul vostro letto e cercate di chiudere i miei occhi. Allora, mi sono appuntato due o tre cose per non sbagliarmi. Innanzitutto, cosa ne pensate del colore arancione di oggi? A me piace, a me piace, che poi è stata una coincidenza perché io in realtà ero indeciso in questo video se usare il colore arancione oppure quello azzurro. solo che avevo messo questa maglia arancione. Quindi non sarei dovuto cambiare. In più, ho iniziato da poco questa candela. Chiaramente parla di un sbagliare. Hai ligni provati. Che ha il colore arancione? Qui ho detto che usiamo la stagola arancione. solo che non lo so, non mi va di accenderla, che poi è enorme ma l'ho pagata pochissimo ok, piccola cosetta comincia trigger molto veloci ok, piccola cosetta i trigger dureranno molto poco così magari tu hai un po' più voglia di guardare questo video infatti ho preparato una decina e più di trigger però devo subito dirvi questa cosa infatti mi vedrete nei video successivi che io gronderò e soffrirò di caldo perché quando devo registrare io tipo sigillo tutto e si muore sempre di caldo devo dirvi adesso non vale anche troppo caldo ma tra un mese a sta parte secondo me sì questo non l'avevo mai portato sul canale questo non l'avevo mai portato sul canale ok 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 ma noi dobbiamo andare avanti, andare avanti, andare avanti, andare avanti, andare avanti, andare avanti non dobbiamo concentrarci e non dobbiamo annoiarci soprattutto ok questo è il bagno schiuma per il mio cane vedete vedete c'è un bagno di acqua però bel suono c'è penso è molto incombrante qui 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 io 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 allora come state? come state? può arrivare a questo video qua molto semplice molto veloce così non vi annoiate Comunque potrei chiedervi una cosa. Mi servono delle idee per dei prossimi video, assolutamente. Perché adesso che si avvicina l'estate, io di solito, e quindi vado in vacanza, non riesco a registrare dei video, quindi me li devo preparare video, preparare prima. E di solito me ne preparo prima almeno tre, tre-quattro, più o meno. Quindi mi servono delle idee, perché in pratica se io mi preparo prima i video per la seconda, la terza, la quarta settimana di agosto e la prima di settembre, ma in realtà quelle di agosto vanno anche i capelli, a settembre poi ce la faccio. Anche perché vorrei fare tanti video di dove vado al mare quest'anno e poi magari farci un video qua per YouTube in voiceover. Ditemi se questa idea vi piace. Ma andiamo avanti. Dobbiamo sprecarci. Questo è il mio portafoglio. Dentro ci sono praticamente solo qualche carta. Ciao. 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 Grazie. Grazie. Allora adesso volevo provare a fare questo trigger qua. E' rilassante, secondo me si. Che figo. E' la prima volta che lo faccio. Va bene dai. Sto cancellando quello che ho scritto. Ok. Lo rimetto qua. Stanotte c'è un po' di caos generale. Quindi per questo magari vedrete un po' di taglie. Grazie. Non mi piace questo. Grazie. Ok. 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 Dai ancora per poco poco andiamo avanti. Qua ho rubato un po' di cosa mia mamma. Ho preso un po' da i suoi cassetti qualche trigger. che poi anche là in un mobile c'era un pacchetto di cotton yoke. I bastoncini cottonati ancora chiusi in una scatolina che faceva un suono fantastico. Proprio mentre dicevo che avrei usato questa scatolina come trigger. mia mamma mi ha sentito no? Poi e quindi vabbè me lo sono appuntato e li ho rimessi a posto. Ieri sera che vado per riprendere i trigger non è più là quella scatolina. e io chiedi a mia mamma ma dove è andata questa scatolina. E mi fa scusa mi ero dimenticato che ti serviva e tipo l'ho usata comunque non c'era più. Quindi non l'ho potuta più usare. Sad story. Adesso abbiamo questo specchio. Ok. Poi ho trovato questo trigger. Poi ho trovato questo trigger. Che in realtà non è un tapping ora. Però sta busta aveva un suono. No. No. Va bene. No. No. Allora. Questo suonero che cos'è, figurati. Che bello. Questo è davvero bello. Che poi, guarda, no, vi dico cos'è appena successo. Sai cosa vuol dire che hanno sparato i fuochi d'artificio alle 3.20 di notte? Non mi credete? Lo trovate nei bloopers. Al prossimo bloopers ci sarà. I fuochi d'artificio. Alle 3.18 di notte. Io ti giuro, non so come esaltamente cosa c'è nella testa delle persone per fare questo. Allora. 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 Fammi riprendere l'oggetto di prima per fare l'altro. Allora. 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 namely. Allora. 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 우 aw niche. Allora. E vi passa per la testa, va bene? Tutto curato. In più, se volete supportare un po' di più, potete fare una donazione cliccando sul tasto grazie a forma di cuore. Ok, ma adesso è arrivato il momento di chiudere gli occhi, di dormire, perché questo video è giunto al termine. Io ti lascio però di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sullo schermo il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vorrai, tu vorrai. Così potrai restare ancora insieme a me. Meglio abbrittarsi con i fuchi d'artificio che si ripartono, li ammazzo. Quindi, buonanotte, buonanotte, un bacio e noi ci vediamo al prossimo video, bene? Buonanotte, buonanotte, buonanotte.